Sì, sì, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, essere i primi del girone, in teoria quasi sicuramente giocheremo contro la Rayan, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, adesso domani faremo una giornata di un po' di recupero di energie e di lavoro per arrivare a sabato nel migliore dei modi. Eh ragazzi, ormai in questi tornei io sono convinto che bisogna giocare partita per partita e basta, noi dobbiamo guardare più in casa nostra e dopo pensare all'avversario, se noi giochiamo come sappiamo penso che non dobbiamo preoccuparci di chi c'è dall'altra parte. Allora, siamo contenti chiaramente di aver preso questo primo posto, credo che sia stato meritato, è stato un ulteriore passo, diciamo che la partita poi di oggi è andata un po' con alti e bassi, però la cosa importante è aver dato anche dei set di gioco a chi ha giocato meno per prendere anche un po' di ritmo partita, quindi adesso abbiamo un giorno per recuperare un po' di energie e prepararci al meglio per la semifinale. E' stata una partita abbastanza difficile, comunque giochiamo contro una squadra fortissima e entrare così è stato difficile, ma al tempo stesso molto bello perché è sempre emozionante giocare contro di loro. I romani comunque ci alleneremo, faremo pesi e tecnica per tenere sempre il ritmo, ci aspetta una semifinale sulla carta, quella più facile, però è un mondiale per club, quindi dobbiamo giocare a tutta contro tutti. Ciao!